Perché il regno di Dio cresca e sia pane e casa per tutti, dobbiamo essere docili allo Spirito Santo. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, commentando il brano del Vangelo di Luca inserito nella liturgia odierna, nel quale Gesù paragona il regno di Dio al granello di senape e al lievito. Lievito e seme sono in cammino per fare qualcosa e muoiono per diventare pane e albero, sono docili allo Spirito Santo, crescono e sono dono per tutti. Anche il regno di Dio non è una struttura fissa, con tutti gli organigrammi ben fatti, ma è sempre in cammino. Qual è l'atteggiamento che il Signore chiede di noi perché il regno di Dio cresca e sia pane per tutti e abitazione anche per tutti. La docilità. Il regno di Dio cresce con la docilità alla forza dello Spirito Santo. La farina lascia di essere farina, diventa pane perché è docile alla forza del lievito. E il lievito si lascia impastare con la farina. Non so, la farina non ha sentimenti ma lasciarsi impastare, si può pensare che c'è qualche sofferenza lì, no? E poi si lascia cucinare, ma anche il regno, ma il regno cresce così e poi alla fine è pasto per tutti.